San Raffaele, mi faccio il suo piaccio, ma non è sempre dentro, che ho bisogno dentro di me, che mia mamma è rimasta vedova e c'è bisogno tanto. La vera famiglia era perché, possibilmente, mi toccava andare a bussare qualche porta per poter avere qualche pezzo di pane. Noi, Carose, eravamo composti da una squadra picconeri, manuali e Carose. E c'erano delle calature, dicenderie, per trasportare con i sacchi di lona, ci mettevamo tre sterrature di zolfo e trasportavamo per tutte le spalle. Lavoravamo proprio a nudi, per un fatto di cantiere che c'erano troppo caldo, anche i pantomangini stessi non si potevano sopportare. Lavoravamo внешne